direttamente da Los Angeles, Patti Farinelli Raccontami un po' perché c'è la filata dell'uomo e della donna innanzitutto voglio omaggiarvi della presenza della mia testimonia infatti sono molto emozionata perché dai recarpe di Los Angeles mi ha fatto omaggio stasera quindi Regina Sattagarova per Patti Farinelli che gira tutti i recarpe del mondo